Siamo a vedere i gol di Serie A della ventiquattresima giornata con Bartolino Brescia, uno dei match più importanti, iniziando dal rigore, segnato da Girelli, fallo su Garoccia. La doppia ancora del Bartolino con il fantastico gol di Pini sul cross di Toselli, per uno scambio Pini con Garoccia con il diagonale, ancora Pini segna il gol del 3-0, 4-0 invece è segnato dal bomber brasiliano del Bartolino, Garoccia. Siamo adesso a Mozzanica, a Como, il cross di Fede Fumagalli, l'incertezza del portiere del Como, gol del vantaggio, ma sono pochi minuti e Chiara Piccino con questo splendido pallonetto, segna il raddoppio per le ragazze di Palofrenasetti, sempre nel primo tempo che da Scartellini si libera l'assist per Chiara Piccino, che si presenta tutta sola davanti al portiere del Como in giro tempo, con un bellissimo tunnel.